L'Italia delle università deve accettare la sfida del confronto, che non vuol dire necessariamente sfida del ranking come posizione numerica in classifica. Sfida del confronto perché intanto il mercato delle università nel mondo è costituito oggi da 200 milioni di studenti, un mercato che è diventato globale e di massa. In secondo luogo l'Italia deve accettare la sfida del confronto e delle regole del confronto a livello europeo. In altri campi talvolta ci siamo agganciati in ritardo e abbiamo subito le decisioni che sono arrivate dall'Europa. Noi dobbiamo contribuire a costruire un'idea di università che sia al tempo stesso competitiva e inclusiva e che poi si confronti con il resto del mondo. Il confronto non ci deve fare paura, anche se questo poi può portare a dire che ci sono delle cose che non sono confrontabili, nel senso che il confronto è tale nella misura in cui il risultato aiuta a migliorare chi sta in una posizione arretrata. Se invece il confronto frustra chi sta in una posizione arretrata perché non è un confronto da fare, allora questo deve essere valutato. Ecco perché noi dobbiamo accettare fino in fondo la sfida del confronto. Per esempio numericamente uno può dire che l'Università di Stanford ha entrate annue che sono pari al 60% di tutte le entrate annue italiane ed è un'università di piccole dimensioni. Dobbiamo accettare il confronto guardando che il Regno Unito, il libro bianco del Ministro dell'Università, dice che servono più università per essere più forti. Noi abbiamo sempre detto negli ultimi vent'anni che dobbiamo diventare più forti con meno università. Ecco tutte queste cose, il confutare anche questi luoghi comuni e implementare una politica nuova per l'università, fa parte del confronto con un obiettivo finale politico molto importante, non facile da raggiungere, ma assolutamente essenziale anche per il futuro dei nostri ragazzi. Il fatto che se esiste un vagone lento ed esiste un vagone veloce, una buona politica, è quella che non rallenta il vagone veloce e fa andare un po' più veloce anche quello lento. È una sfida importante, ma almeno è una sfida a cui tutti possono partecipare e l'Italia alla valle di quella sfida si troverà ad essere un paese delle università più forti di oggi.